Una padovana che era seduta in un bar del centro è stata derubata della borsa. Subito la signora ha chiamato il 113. Gli autori del furto, una coppia che sedeva nello stesso bar dopo aver raffatto la borsa, è andata in un altro locale tentando di pagare con la carta di credito. Alla derubata è arrivato un messaggio sul cellulare con la transazione, un gesto che ha permesso in pochi minuti agli agenti della questura di Padova di arrivare nel locale dove era stato tentato il pagamento. La donna, vistosi scoperta, si è chiusa in bagno. Dopo una trattativa con gli agenti è stata convinta ad uscire. Sono state rinvenute anche altre carte di credito e inoltre con sé aveva delle borse contenenti oggetti acquistati con la stessa carta. La coppia, pluripregiudicata, lei brasiliana e lui italiano, è stata denunciata in stato di libertà per furto e utilizzo di carte di credito.